Nella partita di adesso con la Norvegia è stata anche assicurata e si è fatta affrontare tantissimo, abbiamo avuto un crollo fisico evidente, perché stamattina alla fine per un match con l'Ucraina ce l'abbiamo giocata fino all'ultimo, abbiamo perso entrano i 7 di 1, mentre stasera c'è stato un crollo fisico che ci ha fatto perdere la testa e non fare le cose che abbiamo programmato e studiato con Tama. Dove può arrivare questa Italia adesso? Noi crediamo di arrivare ancora tra i primi quattro, anche perché alla fine sapevamo già che la fretta fondamentale è quella di domani, perché è il quarto di finale. Ovviamente le due vittorie oggi ci avrebbero agevolato nell'incontrare magari una squadra un po' più abbordabile, invece in questa maniera abbiamo un attimino peggiorato la situazione, però alla fine la fretta che conta è quella di domani, quindi avanti, con coraggio. Secondo me sta andando abbastanza bene, se avessimo avuto un po' più di tempo ovviamente sarebbe andato ancora meglio, però le nuove hanno risposto benissimo agli insegnamenti che ha dato Tama in quei giorni di raggiuno, si stanno impegnando per imparare giorno dopo giorno e partita dopo partita, diciamo, entrare al meglio nel mondo del vince. Sì, certo, non mi tiro indietro adesso, assolutamente.